L'occasione è ghiotta, unica e al tempo stesso difficile, ma l'amatori potrà giocarsela davanti al suo pubblico, il che non è poco. Il vantaggio di 2-1 su Salerno nella serie che vale un posto nella Final Four di Montecatini deve costituire una spinta psicologica fortissima per tutta la squadra. C'è un ultimo passo da compiere, poi si inizierà a sognare a occhi aperti la Serie A2. Nella Final Four di Montecatini in programma il 15 e 16 giugno saranno tre le squadre promosse. È chiaro che Salerno farà il discorso inverso per rimanere aggrappato ai play-off e per riportare la Serie in campagna con gara 5. Stasera insomma si riparte da 0-0, ma con la consapevolezza in casa amatori di attraversare uno stato di forma ideale che è persino migliorato partita dopo partita. Bisognerà evitare cali di tensione, confermare la solidità difensiva e continuare a giocare con una elevata fluidità di manovra già vista. Il resto lo farà il numeroso e caloroso pubblico del Palo Elettra. Ed ora riascoltiamo le parole di coach Raiola dopo la vittoria di gara 3. La Serie non è assolutamente finita, è una cosa che sto dicendo dalla prima partita con Nardò, che le Serie a 5 partite si possono vincere e perdere fino a che non si arriva a tre vittorie. Io l'ho detto anche dopo gara 1, potremmo anche perdere gara 2, che noi dobbiamo essere pronti a combattere fino a gara 5 perché le Serie a 5 partite non finiscono mai. Ora siamo 2 a 1, potremmo vincere di 1, di 30, dobbiamo essere pronti per gara 4.